Atenzione, uno dei fuggitivi ho messo a sangue. Facciamo anche più di uno. Mademoiselle, sei vicino alla sua posizione? La via è bloccata e ci vorrà un po' per raggiungerlo. La via è bloccata. La via è bloccata. La via è bloccata. Obiettivo sulla mia posizione! La via è bloccata. 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 Gli ho uccisi quasi tutti. L'ultimo è scappato. Grain, mi serve il tuo folgore. Io continuo a seguirlo da sopra. Voi due, tagliategli la strada da lì. D'accordo. D'accordo. La via è bloccata. 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 Andiamo. Chi sia? L'ultimo è bloccata. Quanti sono bloccati. Tutto bene? Sì. Percival, abbiamo neutralizzato la minaccia. Bene, sono riuscito a catturare uno dei mezzosangue. Ci ritroviamo su region 3. Ricevuto. Andiamo. Signore, che ne facciamo di lui? A Westminster, nelle catacombe. Ci occuperemo di lui più tardi. Ma Sir Percival, immaginavo che l'ordine dei cavalieri di sua maestà fosse coinvolto in questo. Sospettiamo una possibile incursione ribelle, commissario. Elementare, in realtà. Al riguardo, questo potrebbe rivelarsi di interesse. Whitechapel. Pure speculazioni, ovviamente. Io le chiamo prove. Le prove indiziarie possono portare a spiacevoli equivoci, caro Sir Percival. Tutto sembra portare a una conclusione, ma è sufficiente alterare di un poco il punto di vista per scoprire che tutto potrebbe condurre alla conclusione opposta. Prego. Illuminami con le tue riflessioni, commissario. Beh, prima la ribellione. Poi questo Jack e i suoi omicidi. E poi questo. Non ritieni singolare che Whitechapel sia diventata l'epicentro di inspiegabili eventi? Dobbiamo valutare ogni indizio ora. Capisci? Il consiglio si riunirà tra due giorni, se ci concedessi l'onore di mostrarci le tue scoperte. Verrò volentieri a Westminster. Di qua, signore. Perdonami. Dove sei stato? Dannato traffico di Londra. Mon generale, cosa facciamo con i mezzosangue fuggiti per Hyde Park? Dobbiamo inseguirli? No. Mi nostro devoir è de le poursuivre, monsieur. Macchi, non chassons pas des anglais sur le nouveau continent. Votre temeritesse la richisa a un moment plus important. Oui, mon generale. Seguirò il suo consiglio. Converrete di certo con me che d'ora in poi questo sia di competenza della polizia? Certo. Qualcosa non quadra. La malavita di Whitechapel è nota per dare rifugio ai ribelli. Proprio ciò che mi preoccupa. E perché Bedlam è invasa dai mezzosangue? Questo dovremmo scoprirlo di persona. Sentito il commissario Doyle, è un affare della polizia ora. I cavalieri non asservono la propria autorità ai burocrati. Percival ha ragione. La questione va sottoposta al consiglio. 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 La questione va sottoposta al consiglio.